A bello che è questo pomeriggio, Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, i primi ballerini della Scala, che piacere, Timopei, Andriacenco e Nicoletta Manni. Veramente è bellissimo vedere due coppie di persone che si sono innamorate attraverso il ballo. Prima loro ci hanno mangiato di un tango che hanno consumato nella cerimonia del loro matrimonio due mesi fa a Galatina il 10 agosto. E Rosolino tenterà di arruffare una esibizione riciclata di 17 anni fa, ma ci metterò il cuore e la passione. E lui dice, anche alla sudata. Mette le mani avanti con una super professionista come Natalia Titova, guadagnate il centro della scena con My Way in stile waltzer. Quella che c'è. Quella che c'è, Natalia Titova, Massimiliano Rosolino, bella mano. Quella che c'è, Natalia Titova, che c'è, Natalia Titova, che c'è. Che c'è, Natalia Titova, che c'è, Natalia Titova, che c'è, Natalia Titova, che c'è. Bravissimi, Natalia Pitoba, Massimiliano Rosalino, bella ma che bravi. Avete ragione, avete ragione. Anche Timoteo e Nicoletta si sono assati insieme. Vi siete commossi. Accomodatevi.